Qualificatasi alle Final 8 di Coppa Italia con un turno di anticipo, la Bedaland Capodorlando è partita questa mattina alla volta di Pesaro, dove domani alle 18.15 in diretta esclusiva su Antenna del Mediterraneo chiuderà il girone di andata affrontando la Consulting West. Per la squadra di Coci di Carlo si tratta di un'occasione ghiotta per tornare a vincere lontano dal Palafantozzi contro una squadra che occupa la penultima piazza della classifica con otto punti. I scontri diretti dicono male all'Orlandina, sconfitta in tutti e sei precedenti, ma una vittoria domani alla Dele di Carena, in casa di uno dei club più blasonati d'Italia, sarebbe la degna chiusura di un eccellente girone d'andata dei paladini, stabili al quinto posto in classifica. Andremo a giocare contro una squadra che lotterà con ogni mezzo per raggiungere la quinta vittoria stagionale, per risollevarsi dalle zone basse della classifica, dichiara Gennaro Di Carlo. Vogliamo portare un altro po' di fieno in cascina, considerato che nel girone di ritorno avremo in casa sfide più complicate rispetto a quelle affrontate nel girone di andata. Loro ci aspetteranno pronti a fare una gara dura, fisica e intensa, continua Di Carlo, e noi per vincere dovremo essere altrettanto duri e avere un approccio alla gara determinato. Grazie a tutti.